Il dominio non del Papa, ma dei suoi successori, perché io sono nipote del Papa e qui hanno fatto un po' i tucetti, capito? Allora hanno messo, dopo con le signorie, con i medici che sono entrati, hanno dato i martellati e l'hanno cancellato. E quindi in questa maniera, la stessa cosa che troviamo se andate a Porta Maggiore, sulle scritte, che lì c'erano gli imperatori, siccome che quello non era stato tanto è, è martellato all'Arco degli Argentieri. All'Arco degli Argentieri, bravo. A Roma. Ha visto? Si ricorda tutto, bravo. Voi ti dite, va bene andare in giro, che ti pigli aria? Vabbè, orario?